Mille Miglia è un grande orgoglio per Brescia, un brand conosciuto in tutto il mondo e anche quest'anno ci apprestiamo a ospitare la partenza e l'arrivo e a vivere un'intera settimana, da martedì fino a domenica, insieme a questo grande marchio e soprattutto grandi auto, un respiro internazionale e una conoscenza della nostra città che permetta a noi di proiettarci fuori da noi. E' un bellissimo evento proprio anche perché non c'è solo l'arrivo e la partenza ma ci sono le funzionature, ci sono gli eventi collaterali, la notte bianca, cose belle.